un saluto e un benvenuti a tutti voi io sono paolo e questo è l'italiano in podcast benvenuti anche oggi benvenuti all'episodio numero 405 di mercoledì 19 gennaio 2022 una piccola novità oggi beh in realtà è un piccolo ritorno all'antico un piccolo ritorno a come registravo il podcast fino a pochi mesi fa oggi sono abbastanza riposato ho del tempo a disposizione e quindi ho deciso di registrare l'episodio di sera quindi è ancora il 19 gennaio 2022 e per questa volta quindi torno alle vecchie abitudini registro il podcast la sera stessa e non la mattina come accade da qualche settimana non cambia nulla perché le notizie del giorno a questo punto sono le stesse la mia giornata resta la stessa perché ormai è finita quindi dopo il podcast andrò andrò a riposare quindi in realtà non c'è molta differenza tra registrare il podcast la sera quest'ora ormai quasi mezzanotte oppure la mattina presto più o meno alle 6 del mattino non c'è molta differenza però forse potete trovare il podcast più presto e questo mi fa piacere ovviamente ma in ogni caso sera mattina pomeriggio non ha alcuna importanza sono qui davanti a questo microfono per mettere a vostra disposizione la mia voce e permettervi di fare questo esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana questo è il lavoro che facciamo ogni giorno questo è il lavoro che facciamo anche oggi e quindi anche oggi vi parlo un po della mia giornata e poi vi do qualche breve notizia dall'italia solo per tenere tutti voi aggiornati sulla situazione qui nel bel paese ma bando a bando alle ciance bando alle chiacchiere diamo inizio a questo episodio numero 405 prima però c'è sempre un altro consiglio prima di iniziare davvero il consiglio è di mettervi comodi trovare un posto tranquillo con poco rumore soprattutto con poche persone che possono dare fastidio insomma un posto tutto per voi in cui potete rilassarvi e potete concentrarvi sul sul mio podcast quindi quando siete in questo posto speciale per voi che può essere un posto normale in realtà provate a sintonizzare le vostre orecchie il vostro dito sulla mia voce provate quindi a entrare in sintonia con il mio modo di parlare il mio modo di pronunciare il mio accento tutte queste cose e poi cercate di rubare prendere acchiappare tutto l'italiano che potete da me nuove parole nuove espressioni o più importante cercate semplicemente di capire comprendere quello che vi racconto senza preoccuparvi troppo se qualche parola sfugge se qualcosa non riuscite a capirlo l'importante è conservare l'idea l'idea di quello che sto dicendo quindi al primo ascolto non vi fermate tornate indietro con calma trovate quella parola trovate quella frase ascoltatela bene cercate il significato o una traduzione e poi sicuramente quella parola diventerà una parola del vostro vocabolario d'italiano quindi se siete pronti e sono sicuro che siete pronti possiamo iniziare con il racconto di questo mercoledì un mercoledì molto semplice ancora a bel tempo anche se purtroppo da domani forse il bel tempo non ci sarà più ci aspettiamo a breve quindi fra poco tempo l'arrivo di una perturbazione dal nord quindi pioggia aria fredda molto fredda quasi sicuramente neve insomma questa piccola estate a gennaio è praticamente finita l'ultima settimana è stata molto bella e anche oggi è stata una bellissima giornata è iniziata come sempre con il podcast questa mattina e questa mattina mi sembra di aver fatto un buon lavoro mi dispiace ancora molto per l'episodio dell'altro ieri quindi il penultimo episodio il numero 403 che resterà un episodio sbagliato vi ho già detto le notizie che mancavano il podcast era quasi finito e ieri vi ho letto l'aforisma che non c'era in quell'episodio quindi spero di essere riuscito a rimediare a questo errore ma chiedo ancora scusa però lascerò quell'episodio così com'è mi piace avere qualcosa di sbagliato non amo avere sempre tutto perfetto quindi va bene così dopo 400 episodi un secondo un terzo episodio con qualche problema va bene è giusto dopo il podcast quasi immediatamente anzi immediatamente dopo la prima lezione del giorno molto presto con un amico che conosco da tanto e con cui parlo sempre con piacere quindi una un buon modo di cominciare con un buon podcast e anche una bella lezione una pausa a questo punto una pausa di un paio d'ore circa per fare alcune piccole commissioni soprattutto cosa più importante per uscire a comprare il caffè ieri ieri sera avevo finito il caffè quindi questa mattina ho iniziato la giornata senza un caffè sono uscito per per fare questo immediatamente e dopo aver preso un caffè non a casa ma al bar sono andato a comprare il il mio caffè preferito purtroppo in questo nuovo negozio dove vado adesso la mia marca preferita non c'era era finita la loro scorta quindi nel loro magazzino non avevano più questo tipo di caffè arriverà arriverà domani quindi per oggi ho acquistato solo una piccola quantità di cialde io ho già spiegato questa differenza la cialda è come un po di caffè all'interno di un piccolo filtro di carta pronto per essere inserito in una macchinetta da espresso da casa quindi la macchina ha un braccio come quelle del bar si inserisce il caffè macinato o queste cialde all'interno del braccio e poi come al bar si chiude il braccio e si prepara un buon espresso bene io uso questo sistema e oggi però solo acquistato come ho detto pochi cialde di marche diverse di tipi diversi per fare un po di prove in attesa dell'arrivo del mio caffè preferito domani dopo questa breve passeggiata e una piccola veloce spesa in macelleria e questo vi conferma che non sono vegano anche se mangio cornetti vegani sono rientrato a casa per le altre lezioni della mattinata ne ho avute altre due prima del pranzo tutte e due molto buone con due amiche molto simpatiche che conosco già da alcune lezioni e poi ero un po indeciso su cosa fare ma ho pensato di fare la mia corsa prima del pranzo sabato avevo fatto una corsa molto lunga quindi ero un po indeciso anche se correre oggi o domani ma mi sentivo in buona forma quindi ho preferito uscire prima del pranzo e quindi più o meno all'1 e 30 sì circa l'1 e 30 ho deciso di partire per la mia corsa della giornata ho corso 10 chilometri la temperatura era buona quindi tutto andava bene ma dopo i primi 5 è arrivata un po di stanchezza le mie gambe effettivamente erano ancora un po affaticate e anche un po doloranti dalla corsa di sabato scorso non è andata malissimo gli ultimi due chilometri sono stati un po difficili un dolore che ho ancora adesso è arrivato in un muscolo un po strano nella parte superiore della coscia e nella parte posteriore quindi dietro la coscia un po più in alto vicino ai glutei diciamo ho ancora questo dolore questa sera ma è solo affaticamento è solo un po di fatica niente di preoccupante ho corso 10 chilometri con un tempo abbastanza buono ma molto lento alla fine però è andata bene perché la corsa di sabato è stata davvero forse troppo lunga e quindi è normale che oggi io mi senta ancora un po stanco a rientro dalla corsa ovviamente con molta calma una una bella doccia e poi il pranzo un po tardi a dire la verità sì è pomeriggio ormai e dopo questo ho cominciato a lavorare un po al computer con qualche programma che come vi ho detto in questo momento imparo ad usare per circa un'oretta però non troppo e poi le lezioni della pomeriggio sera diciamo ne ho fatte un paio e sono praticamente arrivato alle 8 di sera dopo la fine dell'ultima lezione ovviamente ho mangiato qualcosa ma molto poco in realtà non so perché ma nonostante la corsa non non avevo molta voglia di mangiare e quindi una cena leggera non ho fatto il digiuno oggi come programmato ho deciso di saltare ricomincerò con un programma più preciso lunedì sì perché adesso il lavoro con la dentista sarà un po più facile e quindi credo di poter fare il digiuno e correre o almeno proverò a fare questo comunque dopo la scena mi sono rimesso un po al computer a lavorare ad alcune cose e in particolare a cercare di creare un programma settimanale da molto tempo vi dico che nelle prossime settimane sarò molto impegnato e quindi ho deciso di provare a creare un programma più preciso da seguire questo forse è utile per restare concentrati scusate qualche qualche piccola notifica e e quindi credo che questo sistema un programma un po meglio un po migliore può farmi risparmiare un po di tempo e aiutarmi insomma a ottimizzare in realtà il tempo cioè a organizzarlo un po meglio bene questo è quello che ho fatto fino a stasera e poi era presto quindi è presto ancora presto e ho deciso di registrare questo podcast prima di andare a dormire così da domani posso 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 cominciare con una una prova del nuovo programma scusate qualche notifica ancora e e quindi sì questa è la mia giornata di oggi non c'è altro non è stata troppo faticosa è stata abbastanza impegnata ma ho avuto ancora la possibilità di avere del tempo per per riposare un po buona giornata quindi buon mercoledì vediamo domani che succede speriamo che non arrivi subito il maltempo speriamo di avere ancora qualche giorno di sole per godere qualche passeggiata e un po di tempo fuori all'aperto bene vediamo invece cosa è successo in italia in questo 22 gennaio questo 19 gennaio 2022 vediamo qualche notizia tra quelle più importanti cominciamo come sempre da dal quirinale quindi dalla corsa alla presidenza della repubblica lunedì si comincia a votare come vi ho detto fino ad oggi c'è stato un po' un blocco nel dialogo tra il centrodestra e il centrosinistra sul nome di Berlusconi qualcosa è cambiato oggi comincia un po' a apparire all'orizzonte quindi comincia si comincia a vedere la possibilità del centrodestra di proporre di indicare un nome diverso un nome più condiviso anche con il centrosinistra quindi questa è la politica un po' l'arte della politica iniziano forse le fasi più più interessanti di questa elezione e vi terrò aggiornati sicuramente insomma il nome del cavaliere questo è il soprannome di Berlusconi sembra non essere l'unico possibile per il centrodestra quindi qualcosa è cambiato rispetto ai giorni scorsi un'altra notizia importante riguarda il consiglio dei ministri di domani domani si riunisce tutto il governo in questo consiglio dei ministri che è proprio la riunione del presidente con tutti i suoi ministri in cui si prendono le decisioni su sui nuovi decreti quindi sulle nuove leggi che il governo propone si discute su alcune questioni molto importanti come il problema delle bollette troppo care dell'elettricità e dell'energia le bollette come molti di voi sanno sono le fatture i conti noi da sempre le chiamiamo bollette anche se adesso si sente più spesso il nome di fatture quindi il governo vuole un po' aiutare i cittadini e le aziende con questo problema e forse ci saranno dei nuovi aiuti economici per rendere queste bollette meno care vedremo ci sono altri decreti da discutere ma in particolare domani finalmente c'è la firma di questo decreto in cui sono scritte tutte le attività commerciali che sono aperte per tutti quindi anche alle persone senza un super green pass e quelle attività invece che sono sono chiuse per le persone non vaccinate c'è la conferma che nei supermercati nelle farmacie nelle parafarmacie e nei benzinai questo super permesso non sarà necessario quindi è possibile comprare da mangiare le medicine e fare benzina con l'auto anche senza la vaccinazione per il resto in moltissime attività resta resta l'obbligo della vaccinazione chiaramente queste regole nelle prossime settimane forse cambiano cambieranno ancora cambieranno ancora è presto per dirlo ma sicuramente questo dipende da come vanno le cose con il covid un paio di notizie un paio di curiosità prima di passare alle notizie covid al bollettino c'è questa proposta del comune di ercolano molto carina di concedere la cittadinanza onoraria ad alberto angela forse tutti voi conoscete alberto angela che è un bravissimo presentatore di documentari e di programmi istruttivi diciamo programmi per per capire meglio molte cose quindi per spiegarci meglio molte cose la storia la scienza la cultura l'arte un po tutto alberto angela si è occupato della creazione di molti programmi di divulgazione questa è la parola programmi che insomma trasmettono una conoscenza quindi sono programmi di interesse culturale ercolano vuole fare questo omaggio ad alberto angela perché lui si è occupato della città e dei suoi importanti scavi archeologici ercolano come sapete è stata sommersa dalla lava insieme a pompei è la sorella gemella un po meno famosa chiaramente è un sito meno grande di pompei ma importantissimo ercolano è sicuramente un posto da visitare e un posto davvero importante per per la storia italiana insomma quindi il comune della città presto renderà cittadino onorario alberto angela che ovviamente immagino sia molto contento molto bravo anche il papà di alberto angela piero angela davvero un uomo di grandissima cultura e davvero molto bravo a fare programmi di divulgazione quindi in questo caso in italiano diciamo tale padre tale figlio per dire che spesso le caratteristiche dei padri dei genitori si trasmettono anche ai figli in questo caso una caratteristica buona piero angela è stato un grandissimo divulgatore e anche alberto angela ha preso queste caratteristiche dal suo famoso padre un'altra notizia importante interessante per la cultura italiana riguarda il festival di berlino questo festival cinematografico quindi del cinema che si tiene a febbraio a berlino è molto importante è uno dei più importanti al mondo bene due due film italiani sono in concorso sono tre candidati a vincere dei premi importanti uno è un film di paolo taviani un importante regista italiano e l'altro è un film di dario argento Dario argento è uno dei più famosi registi italiani la sua carriera è legata soprattutto a film dell'orrore questa era la sua specialità ma è sicuramente uno dei migliori registi italiani e quindi questi due grandissimi personaggi del cinema italiano sono in concorso alla 72esima edizione del festival di berlino tutto qua per quanto riguarda le notizie non covid direi che possiamo passare anche al bollettino di oggi per vedere cosa cosa è accaduto in questa giornata prima di tutto c'è da dire che si discute da qualche giorno da un po' di giorni sulla possibilità di modificare questo sistema delle fasce di colori assegnate alle regioni sono molte le regioni a chiedere dei cambiamenti perché in questa fase della pandemia è chiaro che non possono essere applicate le stesse regole questa variante omicron è molto più diffusa quindi qualcuno chiede di utilizzare dei metodi diversi per l'assegnazione dei colori qualcuno chiede di stare più attenti semplicemente alle persone che hanno bisogno di cure in ospedale quindi controllare di più l'affollamento degli ospedali piuttosto che il tasso di contagio insomma o la quantità di persone positive questa è una richiesta che viene da moltissime regioni e probabilmente nelle prossime settimane in questa situazione qualcosa cambierà vedremo ma intanto oggi il covid ha causato ancora 380 morti 192.000 sono i nuovi positivi il tasso di positività è al 16,3% quindi la situazione è più o meno stabile purtroppo ancora troppi morti ma sembra davvero che forse il picco è qui forse siamo davvero arrivati al picco della curva come qualcuno dice e quindi nei prossimi giorni possiamo sperare di vedere una decrescita del numero di positivi e anche delle persone ricoverate e speriamo presto anche dei morti questo è il numero più tragico è quello che vogliamo vedere diminuire il più in fretta possibile con questo è tutto anche per le notizie covid quindi ci resta solo una cosa ci resta solo l'aforisma del giorno oggi vi leggo l'aforisma di un personaggio che direi contemporaneo anche se è scomparso da molto tempo un personaggio importante nella cultura italiana vi invito a scoprire il suo nome a scoprire l'autrice o l'autore dell'aforisma ma intanto la frase dell'italiana celebre o dell'italiano celebre di oggi è questa viaggiare è un'arte bisogna praticarla con comodo con passione con amore un'aforisma bellissimo proprio come viaggiare bene l'autrice l'autore il personaggio che ha detto questa frase o che ha scritto questa frase è famoso per proprio per i suoi viaggi e per il suo modo di raccontare i suoi viaggi come ho detto vi invito a scoprire qualcosa su questo personaggio a scoprire qualcosa sull'autrice o sull'autore di questa frase celebre con questo è tutto davvero è proprio tutto anche per l'episodio non c'è più niente da aggiungere spero che questo cambiamento sia stato buono spero che aver registrato il podcast di sera in un modo un po' diverso dalle ultime settimane abbia migliorato un po' abbia aggiunto qualcosa forse nel futuro io utilizzerò questo sistema qualche giorno la mattina qualche giorno la sera proprio per cambiare un po' e dare più energia energia alle mie parole al mio modo di parlare e un po' più di energia anche al contenuto del podcast per oggi è tutto qui ci sentiamo domani ovviamente ma per il momento io vado a dormire vi saluto e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti